Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la vetrina dell'auto che oggi ha il piacere di salutarvi dalla splendida sede di fratelli Giacomel in via Verdi al 4 ad Assago e come vedete anche grazie al sorriso del nostro Raimondo Ciao, buongiorno Siamo qui alla concessionaria Seat dove vi aspettiamo perché ci sono tante belle cose, novità Assolutamente, un sacco di novità, un sacco di offerte interessanti, un po' su tutto il panorama delle nostre vetture Seat Quindi un buon anno, credo che si deve approfittare proprio Assolutamente, iniziare bene l'anno 2021 Vi presento subito le offerte di questo mese, partiamo dalla nostra splendida Arona, nella colorazione che vedete qua è un rosso Desiree, un allestimento FR Quindi decisamente è una macchina molto sportiva, vi ricordo che tutti i sistemi di sicurezza come ad esempio il front assist e il riconoscimento dei pedoni sono di serie su tutte le nostre vetture In questo caso l'offerta di questo mese Arona a partire da 14,9 vetture in pronta consegna e soprattutto vetture a chilometro zero, quindi venite a trovarci Continuiamo con le nostre offerte di questo mese, con questa splendida Ibiza, sempre in allestimento FR Vi ricordo ovviamente che gli allestimenti li abbiamo tutti a disposizione, chilometro zero e nuove in pronta consegna In questo caso una splendida FR con cerchi in lega, navigatore, display da 8 pollici, sedili in tessuto e a cantara, ovviamente avvolgenti sportivi, fari full led In questo caso le nostre promozioni sono da vetture a partire da 14,5 vetture Continuiamo parlando di Leon, la vettura che vedete qua esposta è una versione plug-in Quindi cosa molto importante è ricordarvi che su questa tipologia di vettura potete godere degli eco bonus, quindi anche degli eco incentivi E su vetture plug-in, quindi ibride e elettriche, avete la possibilità di godere di uno sconto ulteriore di quasi 8.500 euro su questa vettura Che come vedete è una vettura splendida, assolutamente ecologica Con un allestimento FR, quindi con sistema dell'angolo cieco, front assist, line assist, riconoscimento dei pedoni Cockpit digitale di serie dove potete andare ovviamente a configurare in maniera personalizzata tutta la parte riguardante l'infotainment Ovviamente cambio automatico perché è una vettura ibrida, sedili avvolgenti e sportivi E cosa dire, veniteci a trovare perché la vettura è eccezionale Verraimondo grazie, quindi più di un motivo per venire qui da SEAT Assolutamente, grazie a te Clara Vi ricordo sempre la possibilità di chiamarci in modo da fissare un appuntamento con me o con qualsiasi altro consulente alle vendite In modo da avere del tempo dedicato per visionare le nostre vetture e soprattutto le nostre offerte Per parlare di Volkswagen io vi lascio con Dennis, ma il primo a parlare sarà Nicola, ciao Buongiorno a tutti, ben trovati in Volkswagen Oggi per il marchio Volkswagen Vicoli Commerciali vi presentiamo l'ultimo arrivato Parliamo del nuovo Caddy arrivato alla sua quinta generazione Parliamo di un veicolo che questa volta è profondamente cambiato A differenza delle ultime due generazioni che avevano subito due pesanti restyling Qua parliamo di un progetto completamente nato da zero, di un progetto completamente nuovo I cambiamenti sono veramente molteplici, a partire dal telaio Oggi il telaio utilizzato è il telaio della piattaforma MQB Già utilizzato per le vetture Golf, T-Rock e T-Cross E poi i cambiamenti continuano anche nelle sospensioni Passiamo da un ponte unico a Balestre a delle sospensioni a molle liquidali con ammortizzatore Quindi siamo andati anche ad incrementare il comfort di guida E cambiando anche il telaio sono anche cambiate le dimensioni del veicolo In questa variante che stiamo guardando, parliamo della variante passo corto Le dimensioni sono aumentate di circa 10 cm in lunghezza e di circa 3 cm in larghezza E' variata anche la luce d'ingresso sia del portellone posteriore che delle porte laterali Andando quindi ad incrementare il volume di carico e l'abitabilità interna Un'altra profonda variazione ce l'abbiamo avuta nel cruscotto e nel sistema di infotainment Oggi il Caddy utilizza il cruscotto e l'infotainment della nuova generazione di vetture Come Golf 8 e Volkswagen ID Parliamo quindi di un cruscotto senza tasti, sono spariti tutti e tutto touch E di un display che arriva fino ad una dimensione di 10 pollici Anche i sistemi di assistenza alla guida, molti di serie su queste versioni Sono naturalmente di ultima generazione E vanno a completare veramente un progetto su cui la casa punta molto Ed è un progetto che potrà sicuramente ampliare la fascia di clientela per questo modello In questa fase di lancio, oltretutto per i clienti che sceglieranno di finalizzare l'eventuale acquisto Con un finanziamento con Volkswagen Bank o un leasing con Volkswagen Bank Le promozioni sono diverse Come avere in omaggio o il prolungamento di garanzia O il pacchetto manutenzione per 4 anni o 80.000 km Abbiamo poi diverse versioni, diversi allestimenti Perché come sempre in Volkswagen le combinazioni sono molteplici Abbiamo anche in arrivo sia la variante a passo lungo Che il 4 ruote motrici che andrà a completare la gamma Come sempre di Volkswagen su tutte le varie motorizzazioni E non ci rimane che aspettarvi Sia per un preventivo o per una visione qua presso la nostra concessionaria Oppure vi chiediamo di contattarci tramite i nostri canali social Anche per una videochiamata o per un preventivo online Vi aspettiamo Buonasera ed eccoci in compagnia di Golf Variant Una strepitosa offerta per lei grazie agli incentivi statali Quindi partiamo sotto i 25.000 euro E grazie all'offerta Progetto Valore Volkswagen Con un anticipo di 5.000 euro Un importo rata da 225 euro mensili Con 12 mesi di furto incendio Manutenzione ordinaria Ed estensione di garanzia Veniteci a trovare e a scoprire insieme il mondo Volkswagen Da Fratelli Giacomel trovate anche il fantastico mondo Skoda Quest'anno nuovo con tante tante novità Quindi adesso vi lascio in compagnia di Giuseppe Che vi racconterà un po' tutto Occhio Buonasera e buon anno dalla Fratelli Giacomel di Assago Via Verdi 4 In questi pochi minuti vorrei farvi semplicemente una presentazione di due offerte Che partono quest'anno e sono decisamente vantaggiose La prima è riservata alle aziende sulla nuova Octavia Le offerte economiche che vengono riservate a chi ha un'attività professionale Possono arrivare fino a quasi 7.000 euro di vantaggi economici sul prezzo di listino La stesso vantaggio poi si può sommare alle offerte finanziarie Tassi agevolati e coperture assicurative di primo livello disponibili su tutte le vetture Inoltre abbiamo anche la possibilità di abbinare a questo In caso che ci sia una rotamazione di una vettura che ha più di 10 anni Anche gli ecobonus nuovamente messi a disposizione dallo Stato Che possono arrivare fino a altri 6.500 euro di vantaggi economici Per l'allestimento Executive Plugin Continuiamo la carrellata delle offerte promozionali che abbiamo nel mese di gennaio Con la Fabia Già la conoscete come modello Abbiamo due motorizzazioni 60 e 95 cavalli Sulle quali è possibile utilizzare tutti gli ecobonus che sono nuovamente stati introdotti In questo caso il vantaggio economico arriva a sfiorare i 5.000 euro Al quale si aggiungono naturalmente tutte le nostre proposte finanziarie In questo momento vi suggerisco di affrettarvi perché questi ecobonus non sono illimitati E andranno in esaurimento probabilmente nel giro di poche settimane Abbiamo numerose vetture in pronta consegna Tra cui poter scegliere allestimenti, dotazioni e colori Sul sito di Fratelli Giacome Facilmente individuabile su tutti i social Potrete trovare i dettagli delle offerte che vi ho descritto in questo momento Comprese fotografie e l'elenco delle vetture disponibili Per ora vi ringrazio, buon anno, arrivederci a presto Grazie Giuseppe, come avete sentito queste sono solo alcune delle tante promozioni Delle tante offerte che troverete qui da Scoda Quindi il consiglio è quello di venire Ma affrettatevi, sempre in Via Verdi al 4 Troverete questo bellissimo concessionario Tante tante le occasioni, le novità, le promozioni soprattutto Quindi se volete anche fare un test drive Prendete un appuntamento così avrete anche a vostra disposizione un responsabile alle vendite Tutto è solo per voi Per adesso è tutto, non vi resta che salutarvi E noi vi aspettiamo E qui ad Assago, fratelli Giacomel Ciao a tutti, ben ritrovati in fratelli Giacomel E buon anno a tutti Oggi vi presentiamo la nuova Q2 Che è qui, di fianco a me Il nuovo modello è caratterizzato da un nuovo schermo centrale sul cruscotto Per la gestione dell'infotainment maggiorato rispetto a prima E un frontale e un posteriore diverso E gruppi ottici un po' modificati nella linea Questo in particolare monta dei fare a led matrix Le cerchi lega 18 Un pacchetto a contrasto nero lucido E il tetto panoramico Si possono avere varie motorizzazioni Si può avere un 1000 benzina TFSI da 110 cavalli Si può avere un benzina 1500 TFSI da 150 cavalli cambio manuale E da 150 cavalli cambio automatico Si può avere anche una motorizzazione turbodiesel Un 2000 turbodiesel da 150 cavalli 4 ruote motrici cambio automatico Questa in particolare che vi sto presentando oggi Una macchina che ha un costo di 42.000 euro Più tutti gli eventuali sconti Vi ricordo che come liberi professionisti, aziende e private Avete degli sconti dedicati da Audi E degli extra sconti per eventuali acquisti con finanziamento O leasing o noveggio Anche su Q2 si può effettuare l'innovativo sistema di pagamento Audi Value Date un anticipo Pagate 24-35 quote mensili E avete un valore futuro garantito dopo 24 mesi o dopo 3 anni Avete poi la possibilità di scegliere tra tenere la macchina Restituire il veicolo o cambiare la macchina con una nuova vettura nuova E continuare con più o meno lo stesso importo di rata che attualmente state pagando Vi invitiamo a venirci a trovare Vi invitiamo a contattarci Non esitate Chiedeteci di provare la macchina Abbiamo le macchine a disposizione Per poter effettuare dei test drive Perché è l'unico modo per riuscire a capire la bontà del prodotto E' quello di provarla Quindi siamo a vostra completa disposizione Volevo farvi vedere anche internamente questa macchina Che monta anche un sistema particolare centrale Che si può illuminare E può cambiare colore E un accessorio potete ordinarlo Vi ringrazio a tutti Vi aspettiamo Grazie da Paolo Ciao, buona giornata